Penso che effettivamente questo evento annuale si sta configurando sempre più come un evento che riesce ad aggregare, dare la possibilità di esprimersi e portare a sistema tutte le componenti della professione del farmacista e quindi effettivamente si legge anche nella scelta del titolo questa intenzione. Si parte dalle conoscenze e dalle competenze che sicuramente sono peculiari da parte del farmacista sul farmaco ma anche sempre più sul dispositivo medico e si va a esplorare quelle che possono essere le sinergie e le strategie, come dice correttamente il sottotitolo, che individuino come la professione del farmacista può andare a contribuire efficacemente alla sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Come farmacisti e le aziende sanitarie, quindi come Sifo, siamo estremamente interessati a questa collaborazione perché crediamo che solo da una visione unitaria dell'assistenza farmaceutica possa derivare la piena espressione di tutte le componenti della professione appunto. E quindi ci aspettiamo di contribuire allo sviluppo di un programma che effettivamente possa garantire questa espressione che, poiché partiamo tutti da una matrice comune di lavoro in qualità e precisione, partiamo anche noi come farmacisti ospedalieri, sentiamo un po' la responsabilità di porci come riferimento anche per le altre componenti della professione per poter sviluppare un percorso che individui standard di qualità per un accreditamento sempre più finalizzato delle nostre realtà lavorative. e solo attraverso questo si può andare a definire effettivamente quanto il farmacista può essere connettore di sistema e quindi anche in quella che è la sinergia interprofessionale anche con le altre professioni, i medici, gli infermieri e le altre professioni sanitarie, ecco come in questa sinergia interprofessionale il farmacista possa porsi come connettore di sistema per le sue competenze e conoscenze e per la sua propensione alla comunicazione bidirezionale efficace in sanità e salute. grazie 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 grazie